La rotonda di Viale dello Stadio e l'intervento in via Bernina. Estate di lavori alle porte di Sondrio. Per la rotonda serviranno due mesi, con una sola settimana di fermo del cantiere a Ferragosso. Per la messa in sicurezza di via Bernina, invece, un mese e mezzo. Circa 14 settimane, dunque, per completare il progetto interamente finanziato, con contributi per 390.000 euro, per mettere in sicurezza due punti nevralgici all'ingresso del capoluogo, da Ovest, in Viale dello Stadio, e dalla Val Malengoco, lungo via Bernina. Ieri mattina è il momento della consegna dei lavori all'impresa Rigamonti, a giudicataria dell'Appalto, alla presenza degli assessori ai lavori pubblici Andrea Massera e all'urbanistica Carlo Mazza. Entro pochi giorni l'impresa inizierà l'allestimento dell'area di cantiere nel parcheggio di Viale dello Stadio, che sarà chiuso, mentre dal 20 luglio, con l'avvio dei lavori e fino al 14 agosto, non sarà consentito il transito lungo il sottopasso di via Ventina. Conclusa la prima fase dell'intervento, dopo una pausa di una settimana, il 24 agosto, il cantiere aprirà sull'altro lato del Viale, rendendo necessaria la chiusura della corsia in uscita dalla città, con il traffico che sarà deviato lungo via Don Lucchinetti e la bretella realizzata lo scorso anno a fianco del campo da rugby, che rende meno caotica l'emissione sulla Statale 38. In ingresso, invece, le auto potranno regolarmente transitare utilizzando il sottopasso oppure proseguendo verso il centro città. I lavori sono stati programmati in questo periodo dell'anno proprio per limitare i disagi agli automobilisti, spiega l'assessore Massera. Con la rotonda risolveremo la criticità legata all'emissione sulla 38 in direzione Milano, uscendo da sottopasso, aggiunge l'assessore Mazza, che oggi, soprattutto nelle ore di punta, risulta difficoltosa, mentre in via Bernina l'intento è di rendere la zona più sicura per pedoni e ciclisti attraverso la realizzazione di isole sparti traffico, l'allargamento dei marciapiedi, l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di illuminazione adattiva e spazi adeguati per le fermate dell'autobus.